Bella boys, ecco un video fatto con il signorale dove ci siamo stati regà una bella win il ranked non con tantissime kill però con due cecchinate finali fantastiche regà è stato qualcosa di assurdo perché ci stava il signorale che a un certo punto mi dice 2.90 terra 1 io dico cazzo pusha andiamo per pushare regà boom 2.90 li faccio all'altro perché quello stava come un cetriolo fermo lì e niente regà ci portiamo a casa questa bellissima win io vi ricordo regà che siamo in live tutti i giorni il link lo trovate nella descrizione vi ricordo anche di iscrivervi a tutti quanti i miei social così da tenervi aggiornati h24 li trovate sempre nella descrizione vi ricordo regà di lasciare un bel like e un commento così da supportarmi e farmi sapere se vi è piaciuto il video per ultimo ma non meno importante iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti io come sempre regà vi auguro una buona visione e ci si becca nel video bella boys oh mister selvaggio mister selvaggio il selvaggio che si è dato è quello di che si è dato è quello no vabbè è un real no ma lui è un real è un real no no è un real lui l'ha copiato il concept però l'ha fatto male no ma è un real è un real noi siamo diamante 2 come il lobby no non possiamo trovargli un real ti prego dimmi di no vabbè andiamo a scoprirlo andiamo a scoprirlo la moneta di john wick ah no pensavo la di john wick no non lo so veramente perché non ti capisci perché credo pure mito che sembra che c'è la moneta no ma è quella di john wick si si utilizza quella di john wick ah no quella di mod di mito che c'aveva la moneta la che la faccio a girare giusto c'è chi nozzurri ho peccato per il minino che faccio a girare giusto la vita è accattata no ok allora no è morto pure l'asco tranquillo no vabbè scusa me lo devo fare ma ti porto dagli astri vieni vieni stanno la eh nemici nemici i zadia non erano solo bot oh comunque sembra così fa un medaglione nemici a cura non ti prendo le armi perché no ho finito la missione no no non so fino a quando ti conviene no ma non mi voglio aprire sto qui no pensavo volendo andare al bunker non avevo capito volere stare qua vabbè io cerco di prendere la castro lì un po qua sopra subito subito no e te resto qua così tu ti vai un attimo a mettere nel bunker perché ti fa un attimo le armi mi è un po' difficile che mi riesca a fare le armi se mi pusciano c'è già arrivare non sono andato a nuoto ma ma che sa quando andate cose di di ade vedi che ce li andevano a sparare dove sei buono in faccia vieni qua c'è questo non capisco stanno busciando stanno busciando attenzione pompa non c'è si non c'ero quelli servono un altro ci fa il giro da dietro uno ma lo vedo proprio io battano gli otto battano gli otto bravo 116 a quello sopra va bene si madonna mia sta cosa che mi sto facendo mi ricordo un po' il capitolo dove si c'era 116 al flash coglioni avete appena busciato uno che è la prima arma che ha trovato è stato lo sniper viola sto cazzi vostro è inutile che fai così anche con vogliamo mettere su questo punto non ti preoccupare preferisco laggare ma almeno tanto muo è un fight da lontano e muo renderizzo meglio 116 al pesce che fai te ne vai a fare in culo subito subito la prima cosa che fanno torniamo indietro questo è il quinto colpo di sniper che ci tirano addosso coglioni coglioni mamma mia ancora sono a cacalcata non ho capito allora e muo il prossimo un bel 2,90 ma da sta stronza di cosa qua che mi ha spottato dove è che hai fatto 116? ti hai curato però mi sa che ho visto che c'era cosa tipo shield non ho più colpicetto io 2,90 posso push ah che quello di sopra al pesce non ho capito no 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 è quello è proprio quello sopra vai 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 ho fatto cadere non ho mazzo da dietro da dietro dai quello lì che ha ucciso sta qua sopra sta qua sopra non credo che si è preso eliminato si sapevo è sceso qua sotto come cazzo sei arrivato fino a qua ti hai portato il pesce l'ho detto tu che cerchino c'hai viola quello che sta qua a terra prendi 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 ah ok io c'ho proprio uno che veramente non è che mi ce l'ha scritto di più non so come cazzo io ho fatto quel 100 100 mancano solo scudo tu quando ha vita c'hai quando devo cambiare discord lo devo mettere dall'altra parte e mi giocherò anche di così pusha pusha tutti ok va benissimo e poi è killata uno perché? perché stavo fermo a pensare a sparare i bot se no manco per il cazzo non hai trovato il compagno? metterlo si preso nel culo perché giustamente se trovavi il compagno oppure fermo ma si può essere aspetta un culo avevo visto una cosa che è cosa va in giù no sono andato a tutte le cazze ma fanculo esperienza materiale uno con le ali 116 al team che sta pushando io ho fatto più di 130 100 100 sono andati a uno in volo quello di con le ali eh non sono riuscito a prenderlo per la seconda volta ford lo è ucciso il compagno di quello? lo è ucciso 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 quello ho bain safe ma fredda un attimo 290 ti pusha l'altro è da solo si però io quando ero visto lo guardavo più ci veniva più più forte quindi so scappare non direi che mi puoi fare morto eliminato bravo dimmi che c'aveva shield eliminavi dietro di me il tento dietro potrebbero farci gli agguati ma sei una cosa non mi fico non busciare non busciare no 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 mi cosa ho coperto dietro mentre sparo a questo lo so sempre posso acqua capite che capito danno non certo io non so mi fa poco più danno mi fa poco più danno sì 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 siamo in safe loro hanno haig come sempre noi abbiamo siamo sempre in zona però non abbiamo mai haig credo si dice uno crackato la banana non me l'aveva fatta faccio un attimo un giro direttilo da me ton di muovere che te l'aveva fatta vai 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 guarda 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 come stanno stiamo un attimo stiamo un attimo stiamo parlando guarda se trovo shield qua padamelo mi nooo che merda guarda qua guarda ti serve shield ti serve vita no 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 l'ho trovato vita no c'ho tre medici Il boccione, il boccione riesce a venire da me E basta che chiedo Ho un mini lastro, lo vuoi portare? 299, uno, pusho pusho 299 all'altro Signor Casey, balletto, balletto, balletto No, le partite il balletto lo fa 299, uno, pusho pusho 299 all'altro A casa, a casa viene lì a mare Eeeh, regà, così si giocano le ranked Vaffanculo 35% Eh signori, è da canale È da canale